Si è tenuta al Cinema Sant'Andrea di Pescara dal 18 al 20 aprile la 25esima edizione del Festival Internazionale Scrittura e Immagine, che premi i migliori cortometraggio all'interno della 51esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, fondati nel 1973 da Edoardo Tiboni per onorare Egno Flaiano e riproporre costantemente lo studio della sua opera. Quasi 2000 cortometraggio arrivati da tutto il mondo, in particolare da Iran, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, India, Brasile, Russia, Inghilterra, Turchia, per partecipare al Festival Internazionale Scrittura e Immagine, che ha premiato i migliori corti e suddivisi per le 5 sezioni del premio Scrittura e Immagine, Anima Corto, Spazio Abruzzo, Corto Ambiente e Corto Scuola. Due le giurie chiamate a premieri lavori, una formata da esperti del settore, quali Carla Tiboni, presidente a Premi Flaiano e presidente di giuria, Davide Campoglietti, ideatore 25 anni fa del concorso di cortometraggi, Paolo Smoglica, giornalista e critico cinematografico, già responsabile della pagina culturale del quotidiano Il Centro, Romina Remigio, fotogiornalista del National Geographic, la videomaker Cristiana Mantenuto e Martina Corongio, esperta di cinema e responsabile della sezione Cinema Associazione Culturale Flaiano. Una seconda giuria, formata da studenti delle scuole medie e superiori, ha giudicato i corti della sezione Corto Ambiente e Corto Scuola. La serata di premiazione è stata presentata da Martina Riva con la presidente Carla Tiboni sul palco del Festival. Per la sezione Scrittura e Immagine, riservata a cortometraggi italiani e stranieri a tema libero appartenenti al genere fiction o documentaristico, vince il corto italiano Prova d'Amore, diretto da Denis Nazari, interpretato da Alessandro Aver e Nadia Bengala e con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani, che racconta di Gigi, un uomo maturo e innamorato della moglie, mentre le prepara la colazione. Per la sezione Anima Corto, riservata a cortometraggi realizzati con diverse tecniche d'animazione, vince il messicano Nube, diretto da Diego Alonso Sanchez della Barchera. Per la sezione Spazio Abruzzo, riservato a cortometraggi realizzati e o ambientati in Abruzzo e o di registi abruzzesi, vince Ciao Ma, diretto da Carlo Montanari. Quattro i corti finalisti, provenienti da Italia, Ucraina, Turchia e Spagna, della sezione Corto Ambiente, La tua città e l'ambiente, riservate a lavori che abbiano come argomento l'ambiente e la sua salvaguardia. La giuria, composta da 50 studenti delle scuole medie e superiori, ha premiato Plastic Veil, diretto a quattro mani da Elaria Brandolese e Mara Piazzaluga. Sempre quattro i corti in finale, nella sezione Corto Scuola, riservata a lavori prodotti dalle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, ad argomento libero e pubblicazione cinematografica. La giuria, composta da 50 studenti dell'Istituto Tecnico Statale a Terno Mantonè e del Liceo Major, ha premiato La Terra Siamo Noi, diretto da Giuseppe Peronace, realizzato dalla Quinta A dell'Istituto Comprensivo Via Nicolai Maria di Roma. I premi internazionali Flaiano proseguono con tanti appuntamenti e la Kermess si chiude il 7 luglio con il premio Flaiano di Cinema, Teatro, Televisione e Giornalismo.